La vita è come una scatola di biscotti per le sue varietà. Iniziamo mangiando i biscotti al cioccolato, quella la crema e alla fine rimane quel biscotto che a nessuno piace. Quel biscotto che non sa di niente. È vero, nessuno vuole mangiarlo, ma qualcuno deve farlo per finire la scatola. È un dovere morale. Hillary Clinton è proprio quel biscotto. No, sì, nessuno sa cosa difenderà lei una volta presidente. Sì, forse non sarà la migliore presidente degli Stati Uniti, ma sta in politica da un bel po' di tempo. Amici americani, dovete votare per Hillary Clinton. Perché? Perché è Hillary Clinton e comunque finirai per votare per lei. E lo sapete, Hillary Clinton for America. Mangiate il biscotto prima che il mostro dei biscotti mangi tutti voi.